Alla vela di Catrava, oggi mi trovo con Gianmarco Ragazzi, inutile dirvi la nostra emozione nell'essere qui Perché entrambi, questa per entrambi è una meta bramata per tanto, tantissimo tempo E c'è poco da dire ragazzi, io lascerei più spazio alle riprese che alla parole Cominciamo? Andiamo Andiamo La cosa che da subito all'occhio sono i vari murales che sono presenti qui, su ogni colonna Se avete un occhio attento, c'è almeno un murales Guardate, spettacolo là Vela Quelli forse sono materiali da lavoro, secchi di vernice Perché qua è grigio Qua vedete com'è, è ben rifatto, vedete proprio lo scalo di colore Questa era la grande piscina mirata alle Olimpiadi Sì, sì, facci vedere le tue imprese atletiche Perché già Sì, già Mi stava sciolta la palla Perdendo cassa Non fatelo a casa E si scende nei sotterranei Olè Guarda che bello Eh, non so che musica in sottofondo ci metto Hai ragione Allora, io mi voglio soffermare Guardate che spettacolo È impagabile Veramente Cioè, per molti esploditori può sembrare poco Ok, è un votone Rega, sto posto è significativo Veramente è significativo Fidatevi Qua è buio Perché se levo la torcia Guardate che roba Anche se vuoto Sto posto presenta veramente tantissimi territori Quella è la piscina al coperto Quanto dici che è profonda sta qua, Giamma? Ci stai? Oh Ma no, aspetta No, no, no Oh la la Forse sono quelle Ci siamo Spettacolo, va Guardate che roba Spettacolo Bella storia Bella storia Grazie.